Ben trovati dal Tg della mobilità, oggi dalle 11 funerali dell'ex calciatore tecnico Sinisa Mijailovic nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica, di vieti di sosta non solo sulla piazza ma anche in via Vittorio Emanuele Orlando, via Lenaudi, via delle Terme di Diocleziano durante l'evento Limitazioni alla viabilità. Tra le altre notizie, piano della mobilità di Natale anche oggi, strada alle linee gratuite Free 1, Free 2 che da parcheggi di Termini e Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi. Una terza linea sempre gratuita in questo periodo di Natale, la Cento collega a Porta Pinciana con Piazza Cavour e tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.